ciao a tutti e bentornati su white one racing oggi vi mostreremo come si monta un motore di palarge bene sperabilmente dunque nello specifico oggi vediamo il montaggio di questo motore con il quale correremo nella categoria derivata di serie quindi adesso mostriamo il montaggio però ciascuna lavorazione ciascun particolare il settaggio di ogni singolo pezzo che viene montato completo lo trovate spiegato nei nostri video nello specifico ovviamente Damiano si dà sempre più da fare di me e ha fatto già tutte le lavorazioni qui oggi facciamo solo il video dunque iniziamo con il montaggio della primaria che nello specifico parte di un cambio benelli con primaria 12 12 16 16 e ingranaggi del cambio 55 40 38 34 dunque adesso montiamo i rullini purtroppo questa cosa una mano con guanti e l'altra no perché sennò cade tutto ho ingrassato la sede per mantenere in posizione i rulli fino a quando non li ho messi tutti sono 21 adesso pian piano questo purtroppo servono le mani nude sennò quei guanti in ogni caso anche avendo più rulli a disposizione è bene contare perché bisogna essere certi che non vadano a finire altrove perché può capitare che un rullo cada si appiccichi col grasso con l'ingranaggio uno non lo vede poi dopo sono duri punto 1 dunque prima avete visto che ho dato qualche colpetto di martello ma insomma il martello si può usare perché sia il martello giusto è usato con la forza giusta in questo caso questo martellino colpito piano dove serve eventualmente martelli di gomma insomma e se serve allora adesso la primaria la dobbiamo stringere però abbiamo questo accessorio che accompagna questo piatto che starebbe il luogo del parapolvere di lamiera però ha una funzione di rinforzo del carter quindi lo rende più rigido solo che bisogna fissare la primaria con questo dato speciale essendo il dato speciale di alluminio non abbiamo usato la dinamometrica perché non ci si può fidare di stringerlo quanto quello d'acciaio quindi anzi prima è stato accostato con quello d'acciaio ed è stato tirato poi adesso ho messo questo adesso abbiamo fissato il piatto con questo con questa brugola senza averla stretta abbiamo messo le viti e dopo dopo aver messo le viti ci sono dei grani che si mettono in questi buchi qui che vanno a premere contro il carter e irrigidiscono il tutto dunque adesso mettiamo i grani ci mettiamo anche un po di frenafiletti per prudenza per scongiulare il pericolo che possano svitarsi e andare magari in mezzo alle ganasce frenafiletti medio e non serve quello forte altrimenti dopo lo smontaggio potrebbe essere problematico abbiamo messo questo piatto perché abbiamo notato cioè ci siamo resi conto di quanto certe sollecitazioni in gara anche per la presenza di gomme particolarmente morbide che hanno una grande aderenza siano poi sollecitazioni appunto rilevanti l'uso del cambio benelli ecco ve lo faccio vedere qui vedete che ha l'asse rinforzato impedisce che l'asse si fletta e quindi tutta questa parte è più rigida e abbiamo fatto in modo che fosse rigido anche il carter la prova che le sollecitazioni siano veramente notevoli e incomparabili con quelle subite dal mezzo in strada è stato dimostrato dall'usura del cuscinetto del mozzo specialmente nei px e anche in queste ml che hanno il paraolio esterno il cuscinetto del mozzo se l'olio è nel cambio non si rompe praticamente mai dura decine e decine di migliaia di chilometri invece in gara dopo un paio di gare a volte anche una comincia a prendere gioco ergo le sollecitazioni ci sono il cambio l'avete visto completo adesso lo stiamo montando però per farlo entrare è meglio togliere il fermo e togliere gli ingranaggi in maniera che possa entrare l'asse ecco anche per far entrare il primario si può battere certo si può battere con cautela e comunque sul duro cioè attenzione a non toccare lo stelo del preselettore ma ecco qui sul corpo della sede della crociera si può tranquillamente battere diciamo la cautela non serve per l'asse che è durissimo in questo punto ma serve per il cuscinetto se si picchia un po troppo forte e si vede che non entra bisogna fare qualcos'altro magari trovare il modo di tirarlo perché altrimenti si sollecita troppo il cuscinetto adesso vediamo che effetto fa poi decidiamo il da farsi ecco se si batte come ho fatto io senza battere fortissimo e soprattutto tenendo il carter in maniera che possa scorrere c'è comunque un limite alla forza impressa quindi non si fanno danni abbiamo visto che è entrato abbiamo battuto un po' e finita di entrare vediamo se vanno sul loro posto di ingranaggi ecco qua bisogna dire che il montaggio di questo cambio benelli è più preciso di quello piaggio quello piaggio si può montare anche tutto intero questo è meglio fare così anche perché in questo caso i denti hanno meno tolleranza quindi si incastra più facilmente dopo se invece si batte e qualche dente si è incastrato allora sì che si fa leva e si forza malamente ecco è il turno dell'albero motore allora qui bisogna usare alcune cautele intanto va ingrassato sia sulla sede del cuscinetto in maniera da facilitare l'introduzione e poi anche dove va a lavorare sul paraolio l'importante però la cosa più importante di tutte è tirarlo e non batterlo quindi attraverso il suo dado e una serie di spessori piano piano si tira avvitandolo anziché battere perché altrimenti si può chiudere e poi va fuori lineamento ecco sta entrando l'importante è intanto vedere che non diventi troppo duro ma insomma quando diventa troppo duro dire che è arrivato bisogna cambiare spessori e poi altra cosa importante è farlo ruotare perché quando cominci ad entrare nel paraolio insomma non ci sia il rischio che rovini il labbro del paraolio e lo giri può essere un po' duro ma non durissimo se diventa esageratamente duro allora vuol dire che c'è qualcosa che si sta incastrando è bene verificato oltretutto va sempre controllato che non si blocchi mai eccoci al dunque chiudiamo il motore abbiamo messo la guarnizione con il mastice e adesso posizioniamo il carter ecco ora mettiamo i bulloni dopo saranno stretti tutti con la dinamometrica col piedi serraggio 12 15 newton per metro chiaramente vanno stretti vanno prima accostati e poi finiti di serrare eccoci questo ancora non era stretto tagliamo l'eccedenza della guarnizione ecco qua eccoci siamo arrivati al momento del montaggio del cilindro adesso facciamo vedere solo il posizionamento lo squish lo abbiamo già misurato siamo a 0,95 poi faremo delle prove vedremo con queste fasi dovrebbe essere adeguato cioè non è che lo squish è adeguato alle fasi il rapporto di compressione che deriva da questo squish è adeguato alle fasi in particolare alle fasi di scarico per arrivare allo squish desiderato sono servite 4 di queste guarnizioni da 0,2 di rame essendo 4 ne mettiamo due sopra e due sotto lo spessore d'alluminio ma insomma solo per questioni di così di tenuta alla fine un altro modo potrebbe essere quello di montare lo spessore d'alluminio col silicone fare un falso montaggio col sigillante schiacciare levare l'eccedenza e poi tutte le guarnizioni di rame sopra su questo motore ci sta questo spessore da 6 mm perché montiamo un albero in corsa 60 però con bielo 110 allora adesso devo cambiare posizione pure qui i guanti non vanno molto bene perché vengono presi in mezzo il cilindro è stato già unto ecco fatto ecco ecco la testa questa pure va stretta a 17 newton per metro e adesso tralasciamo di farvi vedere il montaggio perché è una cosa talmente comune l'avete vista 100 volte insomma speriamo che questo video vi sia stato utile e penso più che altro per così la curiosità di vedere il motore da corsa che poi appunto correrà perché alla fine abbiamo fatto vedere solamente la chiusura di un motore non è di straordinario stavolta o meglio insomma questo è il modo che usiamo per chiudere un motore che sia da corsa o no insomma in questo caso è questo che correrà però allo stesso modo si aiutano anche quelli originali se ti è piaciuto il video lascia un like e condividilo con i tuoi amici e ricorda white one racing non è un'officina ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati e anche se ti è piaciuto il mondo